Erano in 500 questo pomeriggio per testimoniare solidarietà e fiducia al Modena, di ogni età i tifosi che hanno partecipato al sitino organizzato dalla curva Montagnani, tutti delusi per il momento che sta vivendo il calcio italiano, ma soprattutto arrabbiati per le accuse che piovono sul Modena, arrivate subito dopo la delusione della retrocessione in Serie B. Un lungo corteo è partito alle 16.30 dallo Stadio Bragli e si è diretto fino alla chiesa di San Biagio, attraversando le vie del centro storico. Cori e slogan tra gli sguardi incuriositi dei passanti e dei negozianti. Una manifestazione civile, come da previsione, è anche festosa e piena di significato. I tifosi del Modena sono vicini alla società, si sentono loro stessi vittima di un sistema. Siamo vicini alla squadra, è un momento in cui bisogna stringersi intorno alla società. Crediamo nella buona fede dell'operato della società. Al di là della retrocessione, che è una cosa che si accetta perché sul campo si perde e si va giù. Penso che noi, addirittura essere accusati di aver aggiustato dei risultati per le procedere, sia una cosa veramente assurda. E' giusto che secondo me la cittadinanza, la tifosia, si stringa vicino alla società. Perché comunque è un momento delicato e dobbiamo testimoniare la nostra fiducia e il nostro affetto nei confronti della squadra. Grazie!